Nell'ambiente ristretto del quartiere e della parrocchia, i rapporti devono essere ispirati al criterio della sincerità e della verità, una verità che viene direttamente dal nostro cuore. È il messaggio che Papa Francesco ha lasciato ai fedeli della parrocchia di Santo Maso Apostolo nel quartiere Infernetto, periferia sud di Roma, visitata domenica pomeriggio. Il Vescovo di Roma, venuto dall'Argentina, ha iniziato la sua quarta visita in una parrocchia della sua diocesi, incontrando i bambini. Il segreto per amare Gesù, ha detto, rispondendo a una domanda di un piccolo parrocchiano, è lasciarsi amare da Lui. Lui ci ama per primo. Poi Papa Francesco ha incontrato i battezzati negli ultimi mesi con i genitori, gli anziani, i malati e l'associazione delle famiglie con figli disabili. Prima della messa, celebrata nella chiesa consacrata meno di un anno fa, anche se la parrocchia celebra quest'anno i 50 anni di fondazione, il pontefice ha confessato 5 parrocchiani. Nell'Omelia il Papa ha chiesto di pensare a cosa c'è nel mio cuore, cosa ho dentro, per dire la verità a noi stessi. Dobbiamo domandarci cosa c'è dentro, ha proseguito, perché questo viene fuori e fa il male, se è male, e se è buono viene fuori e fa il bene. Chiediamo sempre questa grazia, ha concluso Papa Francesco, di conoscere cosa succede nel mio cuore per fare sempre la scelta giusta, la scelta del bene, ricordando che quello che sporca la nostra vita è quello che c'è di cattivo che esce dal nostro cuore. Grazie a tutti.